Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda a tratti per traffico verso nord tra Calenzano e Barberino. In A11 per incidente, due chilometri di coda verso Firenze tra Luccaeste e Capannori, sullo stesso tratto e in carreggiata opposta, coda ad un chilometro per curiosi. Sempre in A11, coda per traffico in uscita a Pisa Nord per chi proviene da Firenze. La A12, coda per traffico alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. Per le statali ricordiamo che la statale 1 Aurelia è chiusa tra il chilometro 294,5 e il chilometro 296 nelle due direzioni per via di un cavalcavia pericolante. Usciti obbligatori a Castiglioncello e Rosignano contestualmente alla direzione di marcia. Deviazioni in loco. Muoversi in Toscana in Fio è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana, Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.